Dopo gli over 80 e il personale scolastico, è iniziata oggi la vaccinazione dei pazienti in cura e presi in carico dal sistema sanitario regionale. Ad annunciarlo è l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, che con un posto sul profilo Facebook, è tornato ad aggiornare i marchigiani sullo stato di avanzamento della campagna vaccinale. Per le persone più fragili che sono in dialisi, sono previsti Pfizer e Moderna. Inoltre, da questa mattina ha preso il via anche la somministrazione del siero a coloro che hanno patologie croniche, respiratorie, oncologiche, cardiopatiche e simili. Non dovranno prenotarsi e non sarà una vaccinazione di massa ma l'inizio di un percorso, ha scritto l'assessore. Infatti la vaccinazione che avverrà negli ospedali e nelle strutture Azure sarà avviata d'ufficio. Con AstraZeneca invece si avvia la profilassi per le forze di polizia. Ogni corpo si è auto-organizzato perché hanno i loro medici, spiega Saltamartini. Altri invece saranno serviti dalla Sanità della Marina che ha dato un contributo fondamentale alla regione, risolvendo 100 focolai di Covid-19 soprattutto nelle case di riposo, salvando centinaia di persone. In questo target rientrano anche le polizie locali e quelle provinciali. Poi, oltre al settore della pubblica sicurezza, per disposizione ministeriale saranno vaccinati anche i detenuti. È opportuno ribadire, specifica l'assessore, che l'ordine nelle priorità è stato adottato nella conferenza Stato-Regioni. Non c'è discrezionalità da parte della regione Marche e la velocità dipende dalle forniture, che ancora sono poche. Passando invece alla categoria degli insegnanti e dei professori universitari, detta compresa tra i 65 e i 70 anni, si proseguirà con Pfizer e Moderna. La procedura però è rallentata perché è necessario rispettare l'ordine stabilito a livello nazionale. La priorità, infatti, spetta agli anziani e che ha patologie. Rimane a disposizione il personale del numero verde, ha concluso Saltamartini, il quale è stato incaricato di prendere nota delle varie problematiche che possono emergere. Infine, accanto ai 40 medici, prevalentemente in pensione, inviati da alcuri per potenziare l'organizzazione vaccinale, presto ne arriveranno altri che daranno manforte anche per i domiciliari.